Beh vedi vi raccomando, dopo la gente può s'agliutire alcun coso, e sono degli ungolli, lì c'è sta picco bene, e c'è sta picco, e casca pure. Ma è solo lavaggio, beh pure lavaggiano, come se l'angolano, eppure se così l'angolo, facciamo che porti tanto dentro. Ma che ore so Anna? Anna a che ore so? No, non te l'ho, 3.35. Grazie. Hans, grazie! Vabbè, mentre vai su come va a fare.. Niente, andiamo a barra, se non vuoi cosa! Sì, la fate a lui! Dai, dai! Ma non sei se che mi sa... Ma non sei se che mi sa ammazza tanto succhio! Eh, perci, hai già consumato una tacca? Eh, te l'ho detto, ma non c'è stato che non c'è stato in carica, sì. Ma non so neanche come cavolo si mettono, che cavolo? Sto attaccando al computer? Ah, il pc? Porcaretto? E ora la faccio la svitra sicuramente, poi la faccio domani. Il carattino in Italia. Brava cosa, l'amorata. Sì, brava. Vieni qui, vieni. Io no. Re ragazza. Vieni. Vieni, vieni. 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 Grazie a tutti.